Like a Hellcat Benvenuti a tutti ragazzi, bentornati al prossimo video, io sono Gessere E oggi siamo ritornati su Brawl Stars E oggi siamo in compagnia con GX, Stefano e Mi-Mitch E niente ragazzi, allora Facciamo salutare, salutate Ragazzi, per questo video lasciate quattro capo a un prossimo video e a sette like, mi calcio papasidero Dovrò fare un video nel suo canale di Fortnite, mentre dovrò fare l'asmer Vi lascerò qui sotto il canale di mi calcio papasidero e dirò a qualsiasi qui sotto in descrizione, mi raccomando ragazzi Allora, siamo pronto E ragazzi, per questo video, vabbè, ho già detto i like E iscrivetevi al mio canale attivando la campanellina, così vi arriveranno tutte le notifiche di video live E seguite su Youtube, mi cancio papasidero e mi cancio papasidero e mi lascio papasidero sotto la campanella in descrizione Seguiteci su Instagram, al mio amico è BartosoGessere1, mentre al mio amico è papasidero si chiama MikaP3 E Roccosidero si chiama Rocco e si chiama Rocco, però se no basta scrivere Mi raccomando ragazzi No, ho porto, porto Mortis Mortis è decisamente porto Ma come è qua, quello sputo di Mika era Ecco, lo sputo di Mika Ma non è possibile ragazzi Ma non è possibile ragazzi Non è possibile ragazzi Non è possibile Tutti curano, tutti, tutti curano Ugo, mi basta No no ragazzi no no ragazzi no no ragazzi no dai dai let's do this i metto i metto proprio se nel prossimo video volete essere salutati basta che mi iscrivete in direct su instagram e mi iscrivete e mi dite mi saluto in un altro prossimo video e io vi saluterò a a a a a a a Grazie a tutti! 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 No! Grazie a tutti! Grazie a tutti! No ragazzi! Grazie a tutti! Grazie a tutti!